Federica Pellegrini, famosa nuotatrice italiana, ha recentemente condiviso sui social media alcuni momenti speciali del battesimo della piccola Matilde. Tra le varie foto pubblicate, ha incluso una commovente, dedica, che riflette il suo affetto e la sua saggezza come madre. Nella dedica, Pellegrini ha citato le parole di madre Teresa di Calcutta. I figli sono come gli aquiloni. Insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo. Insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno. Insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Queste parole profonde sottolineano l'importanza dell'insegnamento e dell'influenza dei genitori nella vita dei figli, pur riconoscendo l'autonomia e l'unicità di ciascun bambino. Oltre alla dedica, Federica ha aggiunto un tocco di leggerezza al suo post. Scrivendo. E poi c'è. Mio marito con il cero e mia figlia con il piede nella torta. Ma questa è un'altra storia. Questa frase scherzosa mette in evidenza i momenti spontanei e divertenti che spesso accompagnano le celebrazioni familiari, rendendo il tutto ancora più memorabile. Con queste parole e immagini, Federica Pellegrini ha condiviso non solo un evento significativo nella vita della sua famiglia, ma anche un messaggio di amore e insegnamento che risuona profondamente con molti genitori e appassionati che la seguono.